ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video il video di oggi sarà un video chiacchiere perché mi avete chiesto tante principalmente donne di raccontare il mio percorso spirituale quindi cosa consiste come ho cominciato e un po in linea generale la mia esperienza allora quindi parto subito dal penso che questo sarà un video di una parte di questa parte sarà dedicata a come tutto è cominciato io come ho raccontato nel video di presentazione sono una persona che soffre moltissimo di ansia e quest'ansia è dovuta un po beh c'ho anche un discorso neurodivergente quindi soffro di neuro di neuro diversità e principalmente comunque il mio problema più grande era l'ansia l'ansia come l'ansia sociale quindi l'ansia del contatto con le persone l'ansia della novità l'ansia del futuro l'ansia di quello che è stato nel passato l'ansia del presente cioè l'ansia comunque l'ansia qualsiasi cosa c'era l'ansia c'era l'ansia per una telefonata c'era l'ansia per vedersi con una persona c'era l'ansia per il fatto magari di dover andare a fare la spesa c'era l'ansia per dover portare i vami all'asilo o a scuola c'era l'ansia per il lavoro c'era l'ansia per i soldi c'era l'ansia perché non so cosa farò domani c'era l'ansia per il passato ho fatto questo dio ma adesso cosa mi succederà se lo rifaccio tantissimi tipi di ansia e la dov'è che lo mostravo di più questa ansia mi si riversava principalmente nell'ossessione per le pulizie nell'ossessione per le cose perché praticamente cosa succedeva io mi mi appassionavo di una cosa e io ero totalmente e completamente immersa in questa cosa al cento per cento questo cosa mi faceva mi faceva distogliere lo sguardo da dai miei incubi dalle mie anzi dei miei perché dai miei problemi quindi io c'era una serie tv ci andava a capofitto dentro la guardavo ossessivamente cioè io non è che dicevo guarda un episodio oggi un episodio domani no a capofitto nella serie quindi guardavo macinavo la serie tv tralasciando tutto il resto tutto il resto non esisteva c'era solo quella lì finché non l'avevo finita oppure un libro uguale un argomento uguale qualsiasi cosa fosse che non non era incentrata sul sui miei problemi andava benissimo e ne diventava ossessionata perché questa cosa mi distoglieva da me stessa quindi il fattore pulizia io ne ho parlato anche con la mia cara amica erica che io adoro e chi non la conosce mette il canale qua e chica 73 andate a trovarla l'ho già condivisa diverse volte e ne parlavo spesso anche con lei ma ne ho parlato anche con il mio marito da quando sto affrontando questo percorso questo cambiamento mio molto personale spirituale ne ho parlato praticamente principalmente con con louise e anche con lei perché anche lei condivide questa tipologia di argomenti e la mia pulizia esterna la mia ossessione che avevo per la pulizia esterna era collegata direttamente alla mia al mio mondo interno quindi il mio mondo interno non era in ordine e io avevo l'ossessione per il mondo esterno quindi io mettevo in ordine il fuori perché non riuscivo a tenere in ordine dentro questo questo percorso invece mi ha portato mano a mano è nato dal nulla in realtà però ora mi spiego comunque mi ha portato a non avere più l'ossessione per il fuori dal momento in cui io ho aggiustato e sto aggiustando il dentro la cosa dove è partito tutto tutto è partito da quando io sono andata per sarà dalla neuropsichiatra a fare l'incontro di mestrale in solito dipende ogni tanto ci vediamo di più di tanto di meno e io avevo fatto il mio percorso però si era interrotto perché mi dicevano ma tu cosa vuoi da noi sei sposata ai figli non mai sei indipendente lavori che poi in realtà lavoro e faccio le pulizie occasionalmente faccio una mamma a tempo pieno riesco a gestire i miei bambini comunque un lavoro e cosa 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 vuoi cioè qual è il problema cioè sei talmente realizzata che il problema non c'è per loro io non ho problemi l'ansia prende le goccine al che io mi sono un attimo nervosita diciamo così perché comunque quando sono andata alla seduta il primo incontro io ero talmente nervosa che tremavo e non riuscivo nemmeno quasi a spiegare le cose no che ero talmente agitata che io ero proprio era uno degli apici più bui che ho avuto e l'ho avuto si parla di quattro mesi fa quattro cinque mesi fa sì no vabbè prima prima dell'anno nuovo prima dell'anno nuovo è stato l'incontro che io pensavo in quell'incontro di trovare un aiuto e una soluzione al problema quindi mi diremo bene ok sappiamo che tu hai questo e questo l'ansia gestiscila così tu ce l'hai è vero hai delle difficoltà e l'ansia va gestita in questa maniera non vedo il nesso non vedo il problema non vedo lì non vedo di là e prenditi queste goccine per calmarti ci rivediamo se vuoi se non vuoi non c'è bisogno vabbè liquidata in questa maniera io al che a ridosso di questa visita avevo la visita di sala e la dottoressa ma allora l'hai fatta la visita tu no così l'ho fatta però non mi è servita a nulla perché alla fine mi voleva picciare delle goccioline però poi mi ha detto no ma non c'è niente non c'è niente in falle ma tu lamentazione l'hai mai provata no veramente no allora se tu vuoi risolvere il problema dato che comunque purtroppo per gli adulti è un casino a meno che tu non abbia un problema veramente grande a livello sanitario o vai da privato e tiri fuori fior di soldi cosa io non posso assolutamente altrimenti ti danno queste goccioline così e ti risolvono il problema e non ti considerano più di tanto difatti a me mi disse proprio vai da privato disse se vuoi essere eseguita in maniera assidua e vuoi risolvere un problema che tu pensi di avere bisogna che tu vada da privato e lei mi disse guarda ascolta una cosa prova ad informarti cercare la meditazione perché per gli adulti ma addirittura sarebbe comodo cioè sarebbe comodo sarebbe usato anche per i bambini solo che magari i bambini per fare la meditazione non sempre riesci no informati cerca di trovare il metodo migliore quindi devi provare devi provare delle tecniche devi un attimino risolvere perché come loro ti hanno lasciato a te stessa alla fine non abbiamo altre possibilità perché da privato non lo possiamo accettare perché non riusciamo a gestirlo quindi mi disse lei informati informati sulla meditazione informati su tutte queste tipologie nodi trova magari uno sport dolce da fare cerca poi magari tanto ci si rivede non ne riparliamo tanto informati e vedi un po cosa trovi che ti ispira tornata a casa quel giorno tralasciando che comunque sarà sta bene quindi lei abbiamo parlato perché dire ovviamente no dire sta bene facendo il suo percorso tutto sta andando per il meglio a differenza di come a me ai miei tempi è andata quindi sono molto felice di questo nei momenti in cui sono tornata a casa mi sono messa al computer e ho cercato di tutto e di più ero sempre nel loop del dell'ossessione non quel momento quindi non avevo ancora trovato la risposta ai miei problemi quindi mi sono documentata in una maniera per tutti i giorni io non ho ogni volta che prendevo per poter trovare una cioè avevo il telefono in mano cercavo su quelle cose lì ero al computer mi informavo su quelle cose lì quindi dopo d'autres giorni quando ho capito più o meno che cos'era la meditazione i benefici che portava che porta che porta la meditazione ho deciso di provare ho provato la mia prima meditazione diciamo che per entrare in meditazione vera e proprio ci vuole un po' io adesso sto riuscendo dopo mesi che sto provando sto riuscendo ufficialmente ad entrare in una buona fase meditativa però devo dire che subito dopo il primo tentativo ho capito quanto la respirazione stessa e la meditazione mi potessero aiutare ho sentito giorno dopo giorno allentarsi sempre di più e tutto il mio corpo tutti i miei pensieri si stavano allontanando se ne stavano andando dalla mente perché riuscivo finalmente ad avere il controllo sulla mia testa quindi non era la mia testa che gestiva me ma ero io e sono io che gestisco la mia mente e il mio corpo perché nel momento in cui tu ti lasci andare all'ansia quella prende il sopravvento quindi non sei tu ma è l'ansia che comanda fino a che tu non riesci a trovare un piccolo filino conduttore che tu riesci a prendere come un palloncino impazzito all'elio no che se tu lo lasci andare prende parte devi tenere sempre il filo legato al polso no si suol dire se no ti prende ti parte il palloncino loro becchi più l'ansia fa questo alla testa nel momento in cui tu perdi il contatto con il filo il palloncino va quindi la testa parte e non la controlli più quindi io fortunatamente grazie alla meditazione sono riuscita nella miriade di venti di pensieri di confusione di stress di tutto quello che io poi ho passato negli anni perché sono anni e anni anni di accumulo di cose e io adesso sto risolvendo sempre più piano piano molti piccoli problemi grazie proprio questo procedimento sono riuscita a riprendere questo filo e l'ho tenuto stretto 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 e non lo lascio più perché perché adesso dopo anni di ricerche di muri battuti di porta in faccia di ma tu non hai niente oppure no ma tu che cosa che problema c'hai e anche il fatto di ricevere una diagnosi di di asperger in pratica è stato difficile perché avendo io imparato negli anni a mascherare così bene non riuscivano a vedere attraverso la maschera poi finalmente qualcuno ce l'ha fatta un po io ho imparato ad allentare le maschere adesso non ci sono più fortunatamente adesso quella che vedete sono non ci sono maschere non ne voglio più assolutamente le maschere sono cadute tutte e si sono infrante e io le ho spazzate e le ho buttate via quindi non ci sono più io sono io io sono io così come sono mi sto scoprendo strano facendo quindi ogni giorno per me è una scoperta e finalmente a parte l'inizio con la prima etichetta perché poi alla fine avere una diagnosi ti metti mette l'etichetta che c'è quindi quando in cui io ho ricevuto la diagnosi mi stava appiccicato all'etichetta addosso pensavo che questa etichetta fosse la mia risposta alle domande però in realtà niente se non era una risposta era soltanto uno scalino che mi ha permesso di arrivare fino a qua quindi quell'etichetta e adesso l'ho tolta l'ho buttata perché io io non sono martina la persona autistica che sono martina poi è vero ho alcune caratteristiche che mi accomunano a molte persone con l'autismo io sono autistica ad alta funzionalità non sono quell'autismo non sono quell'autistica grave che a colpo d'occhio riesce a identificare ma quell'autismo ad alta funzionalità se gestito bene si risolve quasi completamente non sanno che si risolve però si gestisce trovato la parola migliore si gestisce quasi completamente questo si rivede anche in me perché io diciamo così io dieci anni fa era una persona completamente diversa di adesso come quello dici te ma beh tutti si cambia sì tutti si cambia però cambiare radicalmente l'interno l'io che io non avevo più io non avevo il mio io interiore era talmente calpestato talmente distrattato talmente nascosto dentro di me che l'avevo perduto è stato un po come scoprire un'altra volta atlantide per me quindi la ricerca del mio io è stato ed è tuttora il viaggio più bello che io abbia mai intrapreso perché piccoli mattoncini si sono praticamente prima ho messo un mattoncino piccolino poi uno più grande adesso ogni mattone che io poso è enorme quindi partire con la meditazione mi ha portato dalla meditazione mi ha portato al journaling il journaling mi ha portato alla consapevolezza la consapevolezza mi ha portato ad un mondo ancora più grande che è proprio la spiritualità io adoro conoscere questa è una parte di me che fortunatamente non è non era forse era l'unica cosa che non avevo perduto io adoro conoscere di imparare io non metto mai la quando mi viene detto una cosa specialmente se è una cosa tipo di tipo monoscitivo no una verità io non la metto mai al muro appesa con un chiodo e li rimane per sempre mutata quando mi viene detto qualcosa io scavo a fondo intanto che io non sento che quella cosa è vera per me e questa cosa è sempre stata l'unica cosa che è rimasta invariata dalla nascita ad ora quindi è il mio filo conduttore e ciò che io sono io sono questo io sono una persona che scava 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 fino a che non sente che la verità che ha da fronte è una verità altrimenti io la confuso e vado con la mia quindi non non sono mai stata di fatto una persona che accettava le risposte così come sono dovevo sempre capire se la risposta che mi era stata data per me era una risposta valida quindi non mettevo sempre in dubbio io metto sempre in dubbio me stessa e gli altri perché io voglio la verità che io sento e questo mi ha portato ai tarocchi mi ha portato allo sciamanesimo mi ha portato alle erbe mi ha portato a tutto a tanto ci sarà chissà quante cose ci sono che devo ancora scoprire e che scoprirò non lo so non lo posso sapere ma la legge dell'attrazione l'astrologia la cristalloterapia il reiki chakra c'è un mondo l'incensi quindi tantissime cose che sto piano piano mattone dopo mattone giorno dopo giorno sto costruendo attorno a me e mi sto sto praticamente sto assorbendo talmente tanto che forse non tutto resterà no però sto sto imparando talmente tante cose nuove su di me che comunque mi stanno dando una forza immensa mi sento forte mi sento io mi sento consapevole di me stessa e mi sento una persona nuova mi sento me come dissi ad erika una volta finalmente quella me di tanti anni fa quella piccola me che aveva dei sogni aveva delle idee aveva un modo di vivere di vivere di vedere il mondo diverso dagli altri però era così naturale per me che adesso io l'ho ritrovata e mi sento finalmente in pace ed è bellissimo quindi com'è cominciato tutto come una semplice ricerca da una semplice ricerca per smettere di soffrire di ansia questa semplice ricerca si è rivelata in un'apertura mentale ma costante flusso di informazioni di crescita di emozioni di cambiamento tutto è un flusso continuo e ogni giorno riesco ad imparare un qualcosa in più ea forti a fortificare me stessa è quello che conosco ancora di più quindi io se anche voi siete nel momento così difficile della vostra vita come mi è successo a me può essere con uno di noi ha i suoi problemi ognuno di noi ha le sue esperienze ognuno di noi viene da un momento della vita diverso dall'altro però io penso che se tu che stai guardando questo video ti senti ti senti un pesce fuor d'acqua ti senti inaccettata ti senti fuori dal mondo non lo so qualsiasi sensazione che stia provando in questo momento che non è pace e l'armonia e voglia di vivere voglia di amarti perché io adesso io mi amo tanto e sto facendo tutte queste cose per me stessa e per l'amore che ho per me ma questa cosa che sto facendo si praticamente ha un effetto riverbero su tutta la mia famiglia perché se io sto bene se io amo me stessa io sono felice di me stessa di quello che sto facendo e di tutti i cambiamenti che sto attuando nella mia vita gioiranno anche loro perché stando meglio avendo meno ansia praticamente non ho più attacchi di ansia da mesi i miei pensieri sono molto pochi sono molto calmi la mia mente è calma e quindi questo va a giocare tantissimo anche per i bambini perché una mamma felice comporta anche i bambini felici e e ho provato sulla mia pelle la differenza quindi se anche tu sei un momento così complicato della sua vita prova con la meditazione prova con la gratitudine con il journaling di scrivi quello che pensi scarica la mente dei pensieri e impara a guardare il mondo con una lente positiva sono piccoli step poi ci dopo dopo ti viene naturale però all'inizio devi essere tu che forzi la lente devi prendere la lente giusta per guardare il mondo e dopo questo aggiustamento tutto ti verrà naturale e io devo dire la verità ero sempre allora inizialmente ero ottimista primi anni dell'adolescenza io nonostante tutto quello che ho passato perché ne ho passato di ogni era sempre comunque quella che guardava il bicchiere mezzo pieno poi strada facendo problemi si sono ingigantini sono arrivati tanti problemi in più e il bicchiere mezzo pieno è diventato il bicchiere mezzo vuoto ma da adesso questi mesi passati in questi mesi che ho passato a ad aggiustarmi adesso il bicchiere lo vedo pieno punto lo vedo pieno perché per me ogni esperienza ogni giorno io posso imparare qualcosa ogni giorno sono qua ogni giorno apro gli occhi ogni giorno ho la possibilità di stare con i miei bimbi gli abbracciati di stare con mio marito di vedere la natura meravigliosa che c'è fuori di vivere un'esperienza qualsiasi essa sia quindi questo è il bicchiere mezzo piano o bicchiere pieno il mio cuore guardando la vita in questa maniera quindi ho preso la lente a cuoricino e io vedo la vita con i cuori e il mio papà mi diceva sempre tu vedi tutti unicorni arcobaleni quando ero più piccola no si adesso si adesso vedo tutti unicorni arcobaleni io sono la persona più felice del mondo perché nelle difficoltà se se anche io adesso di una difficoltà mi pesa molto diversamente di come mi pesava quindi io guardo sempre al dopo in una maniera di ok adesso sono qua sto vivendo questa esperienza cosa mi può sfruttare da questa esperienza nel mio prossimo futuro quindi cosa mi sta insegnando questa esperienza anche se l'esperienza negativa quindi io diciamo che questo è un po come ho cominciato come tutto è arrivato fino a qua sicuramente ci sono tantissime cose ancora di cui parlare però spero di aver risposto abbastanza alle vostre domande incuriosite e se avete altre domande non esitate fatemele pure sotto nei commenti io cercherò di rispondervi e se necessario comunque farò un altro video chiacchiera e vi racconterò qualche altra cosa nel frattempo vi mando un abbraccio grandissimo vi ringrazio di cuore perché siete tantissimi stato aumentando ancora di più e mi raccomando chi non è iscritto al canale si iscriva al canale attivate la campanella mettete un like un commento che vi aspetto al prossimo video ciao